C'è la finestra aperta, filmi meglio. Non si deve, non è vero. Non ma non. Non mi sia. È bello no. Ma questo paese è comodissimo. E' il sistema. E' l'unico possibile. E' l'unico possibile. Benefere che... Ma è rotto. E' un'altra volta. E' dove posso? Mamma mia. Rifiuti. Guarda i rifiuti. Ehi. Ehi. E' bello eh. E' una vista bellissima. Mamma mia. E' fresco eh. E' in alto. Ma adesso c'è il sole. E' cambio la situazione. E' bello. E' il contrapeso. Per non volare il tetto eh. Interessante eh. Interessante eh. Tutto con mattoni. Senza vita. Senza vita. Senza vita. Ah guarda che bel rosso lì. Questa casa che bel rosso. E' una casa speciale. RAL Venezuela. Si è venuto a far vedere in piedi perché rompono le strade. Sì. Questa è un'altra calda. Adesso questo fermo o continua? Se no rimane dentro continua? Si continua. Questa è la stazione di un'altra calda. E poi va giù alla sembra. Abbiamo calandrato qui sotto. Calata? Che calata? Qui abbiamo fatto le lastre. Le lastre le abbiamo calandrate qui in questo spazio. Si. Ha caduto la lastra. No no per calandrarle. Eh si. E' qui si. Ah si. Si. E' la strada per venire su il camion? La mano. E' il progetto lì o sull'altro? Lì? E' il primo. Si è il primo camion. Quella è la stazione? Si. Dove c'è questo? Si. E' il primo camion. Questo invece è orno o le calde? Orno. 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 Orso le calde. l'unica peccato è che le righe lì dell' 그리고 bond non esano lo stesso passo alle lastre. Che si va. Sente come uno vola o è? L'ambasciata americana ancora a Kinza? Io ricordo qui uno con animali sopra Ecco come arrivo con la macchina C'è la strada E' bello e pittoresco Ma l'idea è di eliminare tutti questi? Ci metteranno 100 anni Certo Sì Questa è l'idea Questo ha Metti che ci guarda Qui c'è un buco Certo 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 Certo